L'ex direttore della filiale di Banca Carige di Vernazza è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di riciclaggio. L'arresto di Giovanni Ploteger è stato formalizzato stamani al termine di alcune perquisizioni e sequestri di denaro oltre a quote societarie. Secondo l'accusa Ploteger avrebbe prelevato 585 mila euro dal bancomat della filiale e 500 mila euro circa da conti correnti di alcuni clienti falsificando firme su assegni e prelievi. Tra gli indagati anche la moglie di Ploteger e altre persone tra cui un amico commerciante che avrebbe provato a ripulire il denaro. Ploteger era stato licenziato da Carige l'anno scorso perché accusato di avere sottratto denaro dal bancomat dei clienti. La banca ha anche avviato nei suoi confronti una causa per risarcimento danni. I reati che sono contestati all'ex direttore della filiale Carige di Vernazza vanno dal furto aggravato all'autoriciclaggio alla falsità in titoli di credito. Giovanni Ploteger è stato arrestato stamani dagli uomini delle fiamme gialle della Spezia, mentre per un noto commerciante delle Cinque Terre sono scattati gli arresti domiciliari per riciclaggio. I finanzieri stanno provvedendo al sequestro preventivo di denaro e beni tra cui due ristoranti alle Cinque Terre e immobili per la somma di un milione di euro corrispondente a quanto sarebbe stato sottratto alla filiale e ai clienti della banca tra il 2015 e il 2017. I beni in oggetto erano nella disponibilità degli arrestati o di altre persone indagate due imprenditrici e un ex calciatore dilettante della zona che avrebbero concorso a riciclaggio. Le indagini erano scattate da alcune denunce partite dalla stessa banca e da privati.